Alberto Tobia, Secretario Nazionale di Federfama e Presidente Provinciale di Federfama Palermo. I medici pediatri di base lamentano di non essere attrezzati per poter vaccinare tutte le persone che ne hanno diritto. Voi farmacisti vi mettete a disposizione e chiedete una modifica normativa per poter iniettare il vaccino a chi ne ha diritto? Noi abbiamo messo a disposizione la nostra rete nazionale di 19.000 farmacie, che sono un presidio fondamentale e indispensabile del territorio per poter inoculare il vaccino in supporto all'attività del medico di medicina generale. Per ottenere questo però è importante che venga attuata un cambio normativo che è fermo al reggio decreto del 1934 che impedisce al farmacista di inoculare il vaccino in farmacia. È chiaro che non vogliamo sostituirci a nessuno, è un atto di integrazione, in un momento importante nel quale il Paese deve affrontare un'emergenza e come è successo in Francia, qualche giorno fa, dove per i farmacisti in farmacia è possibile inoculare il vaccino, ci auguriamo che anche questo possa succedere in Italia. Come del resto succede in 14 Paesi su 28 in Europa, in UK, piuttosto che negli Stati Uniti, dove il farmacista è abilitato dalla legge a effettuare il vaccino antinfluenzale presso la propria farmacia. In Sicilia, come nelle altre regioni, il vaccino a pagamento è indrovabile. State trattando con la regione e poterlo rendere disponibile? Ripeto, noi ci siamo messi a disposizione del sistema, sia il di PN che regionale. L'assessore Rasta, con una lungimiranza apprezzabile, ha ampliato l'obbligo vaccinale richiedendo un numero maggiore di dosi per i soggetti a 20 diritto, che sono gli over 60. Però c'è una grossa fetta dei cittadini, quelli che costituiscono poi l'asse produttivo del Paese, che risulterebbe scoperta e quindi non troverà il vaccino in farmacia. Oggi, dalla rimodulazione della conferenza di regioni, stimolata dal Ministro Speranza, sono arrivate 250.000 dosi di vaccino presso le farmacie a livello nazionale. Ci auguriamo che attraverso l'impegno di Federfarma, l'impegno del Ministro, si possono attivare canali alternativi per dare alle farmacie la possibilità di dispensare il vaccino a questa fascia fondamentale per il Paese, non solo nell'interesse della difesa della salute pubblica, ma anche del mantenimento dei livelli di produttività di una fascia attiva che costituisce proprio l'asse produttivo del Paese stesso. Beh, adesso dire che siamo in ritardo è presto per dire che siamo in ritardo. Il problema è che mancano, nel senso che, essendo stata tutta la quantitativa prodotta dall'azienda destinata al mercato italiano, assorbito dagli acquisti delle gare regionali, manca il vaccino per vaccinare le categorie attive, quelle che non rientrano nei piani vaccinali, cioè le persone con meno di 60 anni, e che quest'anno, in numero sicuramente superiore agli altri anni, come raccomandato da tutti gli scienziati, vorrebbero vaccinarsi in numero maggiore. Lei pensi che addirittura ci sono aziende che, sia come titolare di farmacia che in qualità di presidente di Federfarma, mi telefonano per dire, senta ma non si trovano i vaccini, perché noi vaccineremmo a nostre spese tutti i nostri dipendenti, e sono tante, sono anche medie imprese, quelle che costituiscono il tessuto economico dell'Italia, aziende che hanno da 50 dipendenti in poi, che hanno il medico aziendale, quindi non avrebbero nessuna difficoltà a vaccinare, tranquillamente comprerebbero i vaccini. È un problema questo se non si trovano, sicuramente. Perché quando ci sarà il piccolo influenza c'è il rischio di intrasare gli ospedali? Sì, il rischio è duplice. Uno è quello della mancata diagnosi differenziale, cioè essendo in prima fase i sintomi del Covid e i sintomi influenzali molto simili, poi ovviamente il Covid ha delle ingravescenze, e questo in prima fase, quindi si rischia di avere una sovrapposizione di diagnosi. In secondo luogo, certamente, siccome anche l'influenza purtroppo dà delle complicanze, se si va ad intrasare gli ospedali con le complicanze dell'influenza, ci saranno meno spazi liberi per eventuali malattie di Covid. È intuitivo. Ma di che nomi si parla, secondo la mancanza di vaccini? Guardi, secondo me manca un milione e mezzo di vaccini. Lei diceva che ci vuole del tempo perché il vaccino diventi attivo, quindi si rischia di arrivare dopo il picco? Beh, è noto che il vaccino ci mette 15 giorni più o meno a indurre le difese immunitarie, poi ci sono dei vaccini, chiamiamoli più forti, per far capire meglio a chi ci ascolta, che sono i vaccini adiuvati, che vengono utilizzati solitamente per le persone più anziane, che hanno un sistema immunitario più fragile. Tenga a prendersi 15-20 giorni per avere il picco. Poi lei capisce che il picco dell'immunitario post-vaccino fa una curva, una gaussiana, quindi abbiamo un punto di massimo picco che c'è tendenzialmente dopo un mese, un mese e mezzo, poi comincia a scendere, se immaginiamo che il picco di difese dura circa tre mesi. Gianni Petrosillo, presidente di Fedefarm a Bergamo, è stato considerato il farmacista eroe perché anche dalla terapia intensiva ha continuato a coordinare l'apertura delle farmacie nella zona rossa. Oggi a Palermo riceve il premio Coraggio Emanuela Loi. Si sente questa responsabilità di rappresentare tutti i farmacisti Coraggio? Ho fatto la differenza tra eroe e farmacisti Coraggio, perché sicuramente eroe non mi sento, infatti quando mi hanno parlato di questo premio mi sono meravigliato, ma pensando a quello invece che rappresento, cioè le piccole farmacie, le farmacie rurali, sicuramente queste sì che sono stati veramente un esempio di dovere civile e professionale nei confronti dei cittadini. Quindi sì, è stata una prova dura, vengo da Bergamo, sapete, dove c'è stato focolaio veramente grave, importante. Sono stati un periodo buio, abbiamo affrontato problemi mai visti, abbiamo dovuto improvvisare delle soluzioni, grazie anche a, abbiamo creato una rete anche insieme all'azienda sanitaria locale, abbiamo creato una rete con i carabinieri, con la protezione civile, i sindaci, i medici, eccetera. Una rete di pronto intervento. È stata un'esperienza importante che ha insegnato qualcosa. Prima di tutto il presidio, hanno cominciato a vedere, a rivedere la farmacia come un vero presidio sanitario importante che è sul territorio. E seconda cosa, la prevenzione. Quindi questa esperienza, le esperienze vissute in quel periodo sono state messe a frutto per creare un progetto, l'abbiamo chiamato progetto autunno inizialmente, che vuol dire organizzare una rete per prepararci ad un eventuale ulteriore ritorno dei contagi. Questa iniziativa a Bergamo è stata talmente importante che poi è stata assunta a livello regionale e quindi ora è stata proposta a livello regionale a tutte le aziende sanitarie. Una rete di protezione pronta per intervenire. Per i farmaci. Per i farmaci. Grazie. 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 Grazie.